Rilevata attività nemica, rilevo del movimento nelle vicinanze, possibile contatto, mantenere la posizione, contatto intermittente davanti a noi, movimento nelle vicinanze, possibile attività x-ray, possibile attività x-ray, ho sentito un movimento laggiù, nemici in questa zona, nemici in questa zona, movimento più avanti, movimento più avanti, movimento non identificato davanti a noi, movimento non identificato davanti a noi, c'è qualcosa là fuori, c'è qualcosa là fuori, ho un contatto audio, possibile contatto ostile, possibile contatto ostile, ho sentito dei movimenti, ho sentito dei movimenti, laggiù si è mosso qualcosa, laggiù si è mosso qualcosa, movimento, è vicino, movimento, è vicino, c'è qualcosa qua giù, c'è qualcosa qua giù, contatto, contatto, potrebbe esserci qualcosa qui, potrebbe esserci qualcosa qui rinforzi nemici in arrivo rinforzi nemici in arrivo altri bersagli hostili convergono verso la posizione altri bersagli hostili convergono verso la posizione rinforzi alieni nella zona rinforzi alieni nella zona diversi x-ray convergono sulla nostra posizione diversi x-ray convergono sulla nostra posizione diversi contatti in avvicinamento diversi contatti in avvicinamento diversi nemici avanzano verso la nostra posizione diversi nemici avanzano verso la nostra posizione. Rilevati altri contatti. Rilevati altri contatti. Rinforzi ostili in arrivo. Rinforzi ostili in arrivo. I nemici indietreggiano. I nemici indietreggiano. I contatti stanno cercando di ritirarsi. I contatti stanno cercando di ritirarsi. I contatti alieni stanno ripiegando. I contatti alieni stanno ripiegando. I nemici stanno perdendo terreno. I nemici stanno perdendo terreno. I bersagli ostili si stanno ritirando. I bersagli ostili si stanno ritirando. Le unità nemiche si ritirano. Le unità nemiche si ritirano. I contatti si stanno radunando. I contatti si stanno radunando. I bersagli ostili si muovono per ritirarsi. I bersagli ostili si muovono per ritirarsi. Ho avvistato un bersaglio non identificato. Ho avvistato un bersaglio non identificato. Nuovo contatto rilevato. Nuovo contatto rilevato. Possibile contatto nemico. Possibile contatto nemico. Bersaglio ostile localizzato, bersaglio ostile localizzato, ho un nuovo contatto, ho gli occhi sul nuovo contatto, ho gli occhi sul nuovo contatto, rilevato un contatto alieno, rilevato un contatto alieno, nuovo contatto identificato, nuovo contatto identificato, confermo il bersaglio ostile, confermo bersaglio ostile, contatto sconosciuto avvistato, contatto sconosciuto avvistato, contatto sconosciuto, contatto sconosciuto, bersaglio avvistato, bersaglio avvistato, contatto nemico, contatto nemico, contatto non identificato a portata di tiro, contatto non identificato a portata di tiro, nuovo bersaglio avvistato, nuovo bersaglio avvistato, armi a secco, armi a secco, munizioni terminate, munizioni terminate, munizioni esaurite, munizioni esaurite, ho bisogno di rifornimenti, ho bisogno di rifornimenti, armi disattivate, munizioni finite, armi disattivate, munizioni finite, non ho più munizioni, non ho più munizioni, la mia arma è scarica, la mia arma è scarica, ho finito i colpi, ho finito i colpi, servono munizioni, servono munizioni, sono a secco, sono a secco, niente colpi, niente colpi, sono senza colpi, sono senza colpi, munizioni finite, munizioni finite, non ho più munizioni disponibili, non ho più munizioni disponibili, ho finito le munizioni, ho finito le munizioni, munizioni terminate, fuoco sulla posizione dello stile, fuoco sulla posizione dello stile, bombardare quella posizione, bombardare quella posizione, sto mirando il bersaglio stile al riparo, sto mirando il bersaglio stile al riparo, fuoco sulla posizione del bersaglio, fuoco sulla posizione del bersaglio, fuoco e fiamme, fuoco e fiamme, non resterà più nulla, non resterà più nulla, sto mirando la posizione difensiva, sto Sto attaccando la posizione ostile. Sto mirando quella posizione. Prepararsi al fuoco. Abbandonare la zona immediatamente. Sei al sicuro. Muoviti. Devi andartene. Raggiungi la nostra nave per l'evacuazione. Vivrai. Ora vattene da qui. Via. 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 Sei in salvo ora. Raggiungi la nave e tieni giù la testa. Sei libero. Vai. Sei libero. Vai. Adesso sei al sicuro. Adesso sei al sicuro. Muoversi. Muoversi. Non possiamo perdere tempo. Inizia a muoverti verso la nave. Puoi andare. Dovresti muoverti. È il momento di andarsene. Cerca subito un riparo. Cerca subito un riparo. Muoviti. Muoviti. Vai verso la nostra nave. Vai verso la nostra nave. Raggiungi la zona sicura. Raggiungi la zona sicura. Mi sto muovendo. Mi sto muovendo. Posizione confermata. Posizione confermata. Vado. Vado. Sono già là. Sono già là. Avanzo. Sì comandante. Sì comandante. Mi metto in movimento. Mi metto in movimento. Ordine confermato. Ordine confermato. Mi dirigo verso la posizione designata. Mi dirigo verso la posizione designata. Sto avanzando. Sto avanzando. Sistemi in azione. Sistemi in azione. Mi dirigo verso quella posizione. Mi dirigo verso quella posizione. Mi muovo. Mi muovo. Attendo l'ordine. Attendo l'ordine. Ordine di movimento confermato. Ordine di movimento confermato. Ricevuto. Ricevuto. In movimento verso il bersaglio. In movimento verso il bersaglio. Ho fatto ciò che potevo Ho fatto ciò che potevo Spegnimento del sistema Spegnimento del sistema No, aspettate No, aspettate Scompaio Scompaio Non posso più Non posso più Non pensavo di finire così Non pensavo di finire così Non così Non così No, non sono No, no No, non sono No, no Malfunzionamento del supporto vitale Malfunzionamento del supporto vitale Perdita delle funzioni primarie Perdita delle funzioni primarie Dannati Dannati Dannazione Dannazione La gloria è temporanea La gloria è temporanea Tutte le cose hanno una fine Tutte le cose hanno una fine Accensione modulo elettro impulso Accensione modulo elettro impulso Inizializzazione elettro impulso Inizializzazione elettro impulso Elettro impulso attivato Elettro impulso attivato Fuoco con il sistema elettro impulsi Fuoco con il sistema elettro impulsi Attivazione elettroimpulsi. Allontanarsi. Sto sparando col modulo elettroimpulsi. Elettroimpulso attivato. Rilascio carica elettroimpulsi. Elettroimpulso attivo. Inizializzazione del modulo elettroimpulso. Veicolo in fiamme rilevato. C'è un veicolo in fiamme vicino. C'è un veicolo in fiamme vicino. State lontani da quel veicolo. Esplosione del veicolo imminente. Sto preparando il lanciafiamme. Uccido col fuoco. Lanciafiamme attivato. Fuoco. Fuoco. Sto ingaggiando gli ostili col fuoco. Questo brucerà un po'. Ferro e fuoco. Ferro e fuoco. Inizio l'assalto con il lanciafiamme. Inizio l'assalto con il lanciafiamme. È ora di incendiare. È ora di incendiare. Non dureranno a lungo. Non dureranno a lungo. Proiettile lanciato. Proiettile lanciato. Lancio una granata. Lancio una granata. Granata lanciata. Granata lanciata. Sto lanciando una granata. Sto lanciando una granata. 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 Fuoco con lanciagranate. Fuoco con lanciagranate. Esplosione in arrivo. Esplosione in arrivo. Proiettile fuori. Proiettile fuori. Sto mirando gli ostili con le granate. Sto mirando gli ostili con le granate. Questa non la prenderanno. Questa non la prenderanno. Sto salendo. Sto salendo. Mi muovo in alto. Mi muovo in alto. Sto saltando. Sto saltando. Vado su. Vado su. Nuova posizione confermata. Sto raggiungendo una posizione elevata. Mi muovo verso una visuale migliore. Attivazione degli stivali a reazione. Stivali a reazione attivi. Sto ingaggiando un combattimento ravvicinato. Sto per ingaggiare. Mi muovo per uccidere. Mi avvicino al bersaglio da ingaggiare. Ricevuto. Avanzo. Ingaggio il bersaglio ravvicinato. Mi avvicino al bersaglio ostile. Sistema di combattimento corpo a corpo attivo. Pronta all'ingaggio. Il contenitore mirato è sicuro. Il contenitore mirato è sicuro. Contenitore in sicurezza. Contenitore in sicurezza. Recupero del contenitore. Recupero del contenitore. Oggetto alieno catturato. Oggetto alieno catturato. Il contenitore è stato acquisito, il contenitore è stato acquisito, bersaglio catturato, bersaglio catturato, avvistato oggetto alieno, avvistato oggetto alieno, contenitore alieno localizzato, contenitore alieno localizzato, posizione del contenitore confermata, posizione del contenitore confermata, materiale alieno avvistato, materiale alieno avvistato, oggetto alieno localizzato, oggetto alieno localizzato, contenitore avvistato, contenitore avvistato. Ho quasi finito le munizioni. Munizioni quasi terminate. Sono quasi senza colpi. Presto avrò bisogno di munizioni. Le munizioni scarseggiano. Munizioni scarse. Consumo in fretta le munizioni. Devo ricaricare. La mia arma è quasi scarica. Presto avrò bisogno di rifornimenti. Presto avrò bisogno di rifornimenti. Ho bisogno di munizioni. Mi sto muovendo. Avanzo. Vado. Subito comandante. Mi dirigo la ora. Mi muovo. Mi metto in movimento. Ci vado ora. Mi sto muovendo. Ok. Affermativo comandante. Affermativo. Mi dirigo verso quella posizione. Mi dirigo verso quella posizione. Avanzo alla posizione. Avanzo alla posizione. Posizione confermata. Posizione confermata. Sono già in movimento. Sono già in movimento. Contatti pacificati. Contatti pacificati. Molteplici bersagli ostili neutralizzati. Molteplici bersagli ostili neutralizzati. Nemici neutralizzati. Nemici neutralizzati. Bersagli eliminati. Bersagli eliminati. X-ray eliminati. X-ray eliminati. Diverse minacce eliminate. Diverse minacce eliminate. Diversi bersagli a terra. Diversi x-ray a terra. Diversi x-ray a terra. Bersagli eliminati. Bersagli eliminati. Bersagli neutralizzati. Bersagli neutralizzati. Uccisioni multiple comandante. Uccisioni multiple comandante. Diversi x-ray neutralizzati. Diversi x-ray neutralizzati. Sono stati distrutti. Sono stati distrutti. Diversi nemici eliminati. Diversi nemici eliminati. Diversi nemici eliminati. Neutralizzati, diversi nemici neutralizzati. Bersagli ostili a terra, bersagli ostili a terra. I bersagli sono stati eliminati, i bersagli sono stati eliminati. Fornisco copertura alla mia posizione, fornisco copertura alla mia posizione, posizione difensiva, posizione difensiva. Vi copro, vi copro, riparatevi qui, riparatevi qui. Posizione di copertura, posizione di copertura. Usatemi come copertura, non c'è problema, usatemi come copertura, non c'è problema, Mantengo la posizione di copertura Riparatevi dietro di me A riparo qui dietro Posizione difensiva dietro di me Sì comandante Di guardia Occhi aperti comandante Tutto sotto controllo Scansione in corso Di guardia Ci penso io Affermativo In copertura Guardia confermata Ci penso io Mi metto di guardia Sto perdendo il controllo della situazione Non ce la faccio più I miei sistemi non funzionano Danno limite quasi raggiunto Danno limite quasi raggiunto Malfunzionamento del sistema Malfunzionamento del sistema Funzionalità limitate Funzionalità limitate Spegnimento del sistema imminente Spegnimento del sistema imminente Richiedo un'evacuazione d'emergenza Richiedo un'evacuazione d'emergenza Posiziono una mina Posiziono una mina Posiziono delle mine Posiziono delle mine Sto posizionando una mina di prossimità Sto posizionando una mina di prossimità Mina di prossimità in posizione Mina di prossimità in posizione Posizionamento mina confermato Posizionamento mina confermato Mina in posizione Attenzione Mina in posizione Attenzione Lancio una mina di prossimità Lancio una mina di prossimità Piazzo una mina in quella posizione Piazzo una mina in quella posizione Mina piazzata Mina piazzata, mina di prossimità posizionata, mina di prossimità posizionata, ricaricato, ricaricato, pronta a proseguire, pronta a proseguire, pronta all'ingaggio, pronta all'ingaggio, sto ricaricando le armi, sto ricaricando le armi, carica e pronta, carica e pronta, sto ricaricando le armi, sto ricaricando le armi, ricarica effettuata, ricarica effettuata, pronta per ingaggiare i bersagli ostili, pronta per ingaggiare i bersagli ostili, rifornimento completato, rifornimento completato, pronta a sparare, Pronta a sparare, sono pronta, sono pronta, ci sono, ci sono, di nuovo online, di nuovo online, armamenti pronti, armamenti pronti, munizioni caricate, munizioni caricate, avvicinati per ricevere cure, avvicinati per ricevere cure, qui c'è del supporto medico, qui c'è del supporto medico, supporto medico disponibile, supporto medico disponibile, avvicinatevi, avvicinatevi, posso curarvi, posso curarvi, bisogno di una mano, bisogno di una mano, posso fornire assistenza medica, posso fornire assistenza medica, posso fornire assistenza medica, medica, qui ci sono delle cure, preparatevi alla nebbia, cure in arrivo, mi hanno bloccata, sono sottofuoco pesante, sono sottofuoco di soppressione, gli ostili stanno tentando del fuoco di soppressione, mi stanno sparando, ho bisogno di aiuto, Mi stanno sparando, ho bisogno di aiuto, ho stili con fuoco di soppressione sulla mia posizione, richiedo assistenza immediata, fuoco di soppressione nemico, fuoco di soppressione sulla mia posizione, non posso muovermi, fatelo fuori, avrei bisogno di un po' d'aiuto, avrei bisogno di un po' d'aiuto, alleato a terra, è troppo tardi, è troppo tardi, è morto, è morto, un uomo a terra, un uomo a terra, ne abbiamo perso uno, ne abbiamo perso uno, soldato a terra, soldato a terra, abbiamo perso un uomo, abbiamo perso un uomo, un membro della squadra è a terra, un membro della squadra è a terra, abbiamo delle vittime, abbiamo delle vittime, la corazza regge ancora, la corazza regge ancora, sono ferita, sono ferita, i miei sistemi sono ancora intatti, i miei sistemi sono ancora intatti, il danno è superficiale, il danno è superficiale, stato Mac, Mech, giallo. È stato rilevato un danno minimo esteriore. Tutti i sistemi rimangono operativi. Avrò bisogno di piccole riparazioni. I sistemi stanno reggendo. Nessun danno pesante rilevato. Solo un danno minimo. La corazza non è stata penetrata. I sistemi della corazza sono solidi. Sto bene. Sono ancora operativa. Questa tuta ha i suoi vantaggi. Ecco a cosa serve la corazza. Nemmeno un graffio per ora. Notifica di possibili riparazioni. L'integrità della corazza è stabile. Corazza Mech intatta. Corazza Mech intatta. Spero che sappiano fare meglio di così. Ci vuole ben altro. Danno minimo rilevato. Le armi non hanno penetrato. Parametri dei sistemi a livelli accettabili. Parametri dei sistemi a livelli accettabili. È una ferita superficiale. Fuoco in arrivo. Fuoco in arrivo. Solo un bersaglio facile. Sono un bersaglio facile. Fuoco ostile su questa posizione. Fuoco ostile su questa posizione. Armi da fuoco in arrivo. Armi da fuoco in arrivo. Fuoco nemico sulla mia posizione. Fuoco nemico sulla mia posizione. Mi stanno sparando. Mi stanno sparando. Fuoco nemico. Fuoco nemico. Siamo sotto tiro. Siamo sotto tiro. Sono bloccata qui. Sono bloccata qui. Fuoco pesante vicino alla mia posizione. Fuoco pesante vicino alla mia posizione. La mia posizione è compromessa. La mia posizione è compromessa. Fuoco pesante qui. Fuoco pesante. Sono sotto tiro. Sono sotto tiro. Fuoco ostile verso la mia posizione. Fuoco ostile verso la mia posizione. Sono sotto fuoco pesante. Sono sotto fuoco pesante. Sono sotto fuoco pesante. Sono ferita. Sono ferita. Gli ostili hanno preso di mira la mia posizione. Gli ostili hanno preso di mira la mia posizione Fuoco nemico qui Fuoco nemico Fuoco in arrivo verso questa posizione Fuoco in arrivo verso questa posizione In arrivo In arrivo Non credo che siamo soli qui Non credo che siamo soli qui Ssh Sentito Ssh Sentito Ehi sentito qualcosa Ehi Sentito qualcosa Chi ha fatto quel rumore Chi ha fatto quel rumore Silenzio Sentito qualcosa Silenzio Sentito qualcosa Sentite Sentite Cos'è stato quel rumore Cosa è stato quel rumore? Ascoltate Ascoltate Piano Sentito qualcosa? Piano Sentito qualcosa? Credo di aver sentito qualcosa Credo di aver sentito qualcosa C'è qualcosa là fuori C'è qualcosa là fuori Suono rilevato Suono rilevato Bersaglio non identificato vicino Bersaglio non identificato vicino X-ray neutralizzato X-ray neutralizzato Uccisione confermata Uccisione confermata Bersaglio nemico eliminato Bersaglio nemico eliminato Ostili a terra Ostili a terra Seccato. Seccato. È a terra. X-Ray a terra. X-Ray a terra. Nemici pacificati. Nemici pacificati. Beccato. Beccato. Morto e sepolto. Morto e sepolto. Non è più una minaccia. Problema risolto. Problema risolto. È a terra. Minaccia sventata. Minaccia sventata. È fuori gioco. Bersaglio ostile neutralizzato. Bersaglio ostile neutralizzato. Non è più un problema. non è più un problema. Bersaglio distrutto. Bersaglio distrutto. Bersaglio neutralizzato. Bersaglio neutralizzato. Bersaglio fuori gioco. Bersaglio fuori gioco. Unità nemica neutralizzata. Unità nemica neutralizzata. È morto. È morto. Che liberazione. Che liberazione. Bersaglio eliminato. Bersaglio eliminato. Ostile rimosso. Ostile rimosso. Bersaglio a terra. Bersaglio a terra. Nemico neutralizzato. Nemico neutralizzato. Bene. Bene. Nemico distrutto. Nemico distrutto, minaccia eliminata, minaccia eliminata, nemico a terra, nemico a terra, x-ray eliminato, x-ray eliminato, uccisione confermata, uccisione confermata, bersaglio neutralizzato, bersaglio neutralizzato, il bersaglio è stato neutralizzato, il bersaglio è stato neutralizzato, bersaglio mancato, bersaglio mancato, riallineamento ottiche, riallineamento ottiche, mancato, mancato, malfunzionamento dei sistemi di mira, malfunzionamento dei sistemi di mira, nessun danno, nessun danno, nessun contatto con il bersaglio, nessun contatto con il bersaglio, bersaglio ancora attivo, bersaglio ancora attivo, riconfigurazione della matrice di mira, riconfigurazione della matrice di mira, il bersaglio è ancora in piedi, il bersaglio è ancora in piedi, sono stati rilevati detriti nel sistema ottico, sono stati rilevati detriti nel sistema ottico, colpo a vuoto, colpo a vuoto, ricalibrazione del sistema di mira, ricalibrazione del sistema di mira, il bersaglio non ha subito danni, il bersaglio non ha subito danni, il colpo non è andato a segno, il colpo non è andato a segno, il colpo non ha colpito il bersaglio, il colpo non ha colpito il bersaglio, nessun danno sul bersaglio selezionato, nessun danno sul bersaglio selezionato, malfunzionamento mira, malfunzionamento mira, bersaglio ancora in gioco, bersaglio ancora in gioco, nemici avvistati, nemici avvistati, ho una visuale, ho una visuale, eccoli che arrivano, Eccoli che arrivano, aprire il fuoco, aprire il fuoco, diamoci dentro, diamoci dentro, contatto, contatto, fuoco a volontà, fuoco a volontà, occhi aperti, occhi aperti, ingaggio autorizzato, ingaggio autorizzato, iniziamo, iniziamo, nemici avvistati, nemici avvistati, nemici in vista, nemici in vista, contatto ostile confermato, contatto ostile confermato, abbiamo qualcosa qui, abbiamo qualcosa qui, contatti nemici confermati, contatti nemici confermati, X-ray avvistati, X-ray avvistati, fuoco a volontà, fuoco a volontà, bersaglio in vista, bersaglio in vista, nemici in vista, nemici in vista, bersaglio nemico a portata di tiro, bersaglio nemico a portata di tiro, bersaglio acquisito, bersaglio acquisito, unità ostile localizzata, unità ostile localizzata, truppe nemiche, truppe nemiche, nuovi contatti rilevati, nuovi contatti rilevati, facciamoli fuori, facciamoli fuori, la situazione si fa calda, la situazione si fa calda, nuovo contatto, nuovo contatto, nuovi contatti acquisiti, nuovi contatti acquisiti, diversi nemici in arrivo, diversi nemici in arrivo, abbiamo compagnia, abbiamo compagnia, preparatevi, preparatevi, diversi bersagli avvistati, diversi bersagli avvistati, abbiamo diversi contatti, abbiamo diversi contatti, ostili vicino alla mia posizione, ostili vicino alla mia posizione, questo posto si sta affollando, questo posto si sta affollando, abbiamo compagnia, abbiamo compagnia, ostili multipli nelle mie vicinanze. Ho dei contatti ostili. Molti alieni alla mia posizione. Contatti ostili confermati. Unità nemiche avvistate.